La neve cadeva, cadeva lieve in tutto l'universo, e lieve cadeva su tutti i vivi e i morti. Ingrid, dovrei dire addio secondo te ai miei amici più cari. Secondo me dovresti fare quello che vuoi. Non me ne andrò in umiliante agonia. Non so che cosa dire. Io spero che dirai di sì. Sì a cosa. Ti servirà un legale? No, deve essere assolutamente segreto. Dormirò con la porta aperta, e il giorno in cui la trovi chiusa, vuol dire che sarà successo. Ormai non ho più alcuna fiducia che la gente faccia la cosa giusta. Sto imparando da lei. Anche tu dovresti. Ci sono tanti modi di vivere dentro una tragedia. Risenti. È giorno. E tu sei viva. Sì. Grazie per la visione